Va tutto per ora bene, stiamo lavorando bene, leggo sui giornali storiche che non esistono, però non siamo ancora certi di presentare una lista all'europea e credo che nei prossimi giorni questa risposta ci sarà. Io sono molto determinato a presentarla, molto determinato a trovare l'unità tra diverse forze che lavorano con noi da tempo. Credo che si può fare questo lavoro sia sul programma che sulle candidature, credo che c'è uno spazio politico, sicuramente la nostra è una proposta per un'Europa dei diritti, dei popoli, della giustizia sociale, dell'uguaglianza e della solidarietà e credo che c'è tutto lo spazio politico per mettere in campo questa proposta e quindi ci stiamo lavorando anche in questi giorni, domenica c'è un incontro che credo sia risolutivo e quindi immagino che la settimana prossima scioglieremo una prima riserva se ci saremo come lista e dopo qualche giorno la seconda riserva se ci sarà o meno anche una mia candidatura al Parlamento europeo.